Inizierà con un clamoroso colpo di scena la sesta serie di Provaci Ancora Prof, la fiction di Rai 1 con Veronica Pivetti nei panni della professoressa Baudino che tornerà in onda da giovedì 10 settembre sul Rai 1. Una serie televisiva quindi pronta ancora una volta a riconquistare il pubblico affezionatissimo e le sorprese come sempre non mancheranno. Allora quali saranno le sorprese? La sorpresa è una non sorpresa però è una piacevole non sorpresa nel senso che saremo in onda con la sesta serie di Provaci Ancora Prof quindi in realtà non è una sorpresa perché è un appuntamento ormai fisso da 10 anni però alla sorpresa è che ci siamo ancora e siamo contenti. Succederanno un sacco di cose, la prima cosa nuova intanto è che sono otto puntate e non sei perché è andata molto bene la serie precedente quindi abbiamo detto abbondiamo, meglio abbondare che mancare e poi succedono veramente un sacco di cose. Io le dico tutte le serie perché è vero che tutte le serie succedono un sacco di cose però stavolta ne succedono di più soprattutto a livello amoroso, relazioni, questo benedetto triangolo Camilla, Gaetano, Renzo un po' si scombina bisogna dirlo per cui da quel punto di vista un sacco di cose, dal punto di vista dei casi ci sono sempre i soliti casi gialli di puntata. Otto puntate girate quindi tra Torino e Roma ci faranno compagnia in questa prima parte di stagione di Rai 1 e la professoressa è pronta a farci appassionare con la sua vita privata, con le storie dei suoi alunni ma anche con le sue pazze indagini. E insomma credo che quest'anno con la nuova regia di Enrico Aldoini e Francesca Marra abbiamo dato ancora di più un senso alla commedia perché questi sono i cosiddetti gialli rosa cioè ci sono le storie gialle naturalmente ma c'è tantissima commedia e credo che sia stata ancora più valorizzata e questo per me è molto bello perché sono un'attrice di commedia e mi fa piacere. Allora appuntamento su Rai 1. Assolutamente appuntamento su Rai 1, sempre. Allora appuntamento su Rai 1